Chiaro che c'è poca voglia di parlare, ma dobbiamo provare a capire un po' cosa non ha funzionato questa sera. Credo che abbiamo fatto tutto sommato un buon primo tempo, eravamo riusciti a schiacciarli nella loro metà campo, abbiamo bagliato qualche gol. Secondo me quello che abbiamo sbagliato è stato per l'ennesima volta l'approccio al secondo tempo, dove non siamo entrati decisi. Ti chiedo perché non è la prima volta? Se lo sapessimo credo che non sarebbe successo, perché non è la prima volta, quindi sicuramente dobbiamo reagire da squadra, unirci e cercare di uscire da questo brutto momento, perché non lo meritano i tifosi che ci vengono a vedere e ci seguono anche in trasferta. Ti chiedo una cosa, i pericoli la Re Canatesi li creava soprattutto quando veniva a aggredire voi centrocampisti, la linea di passaggio non riusciva, ripartenza sempre pericolosa? Sì, probabilmente dovevamo più giocare sull'esterno, però loro si sono difesi bene, stavano sempre sotto la linea della palla, abbiamo fatto fatica a trovare linea di passaggio.